Benvenuti o bentornati a tutti. Allora, stavo scegliendo quale nuova demo provare tra i miei 120 giochi che ho nella lista di Steam e ovviamente ho scelto un gioco che non ho neanche nella lista perché ha 120 titoli e ci si arriva così, cioè che tu ogni volta vai ad aggiungere cose. Allora, da quel che ho capito dovrebbe essere la storia di questo volpino che è un giornalista che viene praticamente falsamente accusato e finisce in prigione e per cui bisogna fare questa vita in prigione, cercare di sopravvivere, seguire le regole, cercare di farsi amici e eventualmente riuscire a scappare perché bisogna, insomma, salvare la città perché noi siamo stati comunque traditi da qualcuno e messi in gattabuia senza un valido motivo. Vediamo com'è. Chi sei tu? Ah, posso essere Black Panther Bob? Ovviamente in italiano non c'è. È lui, è questa volpe, la volpe Thomas che mi interessava, però c'è anche questo Black Panther Bob, che è una pantiera e poi c'è questo che non è ancora stato catturato perché ho letto nella descrizione, insomma, che avrebbero aggiunto le storie di altri personaggi, però io voglio giocare con la volpina perché è lui che mi ha attirato. Allora, è un giornalista. Io posso scegliere se sia un giornalista di telegiornale, diciamo, un giornalista di quell'inincognito, diciamo, sotto copertura, oppure un corrispondente di guerra ed hai delle abilità diverse. Effetti negativi, non ti puoi fare la doccia senza usare il sapone. Perfetto, perfetto. Scegliamo questo. Broadcast giornalista della televisione. Insomma, dopo esserti graduato al college, hai sesto assunto da questa televisione e hai subito trovato, diciamo, posto davanti alla telecamera grazie al tuo bel aspetto. Sei in grado di ricevere notizie di prima mano anche dai testimoni più riluttanti, ma anni lavorando davanti al pubblico ti hanno reso molto conscio della tua immagine. Va bene, iniziamo. E' la legge della giungla in questa città. Quindi, in che modo siamo diversi dagli animali selvatici? caro lettore, sono qui all'Ameleg River, vicino all'impianto chimico di Skid Road. Ok, lui sta facendo la sua cosa da giornalista. Come puoi vedere, il fiume è viola e ha anche un odore pungente. Sono qui con uno dei residenti, vediamo che cosa ha da dirci riguardo a questa cosa. Quello che penso è che quella dannata o impianto chimico ha aperto meno di due anni fa e ha già devastato tutta l'area circostante. Questi figli di buona donna senza cuore devono aver scaricato le loro cose nel fiume la notte. Ora tutti i pesci sono morti. Come è arrabbiato. E' un disastro. Annusa l'odore. Così tanti bambini sono ammalati. Non possono smettere di tossire. E hanno delle eruzioni su tutto il loro corpo. Vi avete informato l'autorità. come l'Agenzia di Protezione Ambientale del Municipio. Che carino. Certo, ma sono inutili. Nessuno di loro vuole assumersi nessuna responsabilità. Ho sentito che il nipote del sindaco possiede parte dell'impianto. Questi bastardi fanno tutti parte di questa cosa. Vedono noi povere persone come se valessimo meno di niente. Live. La contaminazione del fiume Lameleg. E vabbè, questo è tragico. Il fatto che le autorità non facciano niente è dovuto al fatto che anche il sindaco c'entra qualcosa. Continueremo a investigare la storia. E insomma, seguite le novità. Eccellente intervista. La tua reputazione è... Lui si chiama Angelo. La tua reputazione è meritata. Sono sicura che non mi avete invitato qua giusto per guardare un video assieme. Certo che no. Siamo entrambi uomini impegnati. Andrò diritto al punto. Come saprete i quattro anni del sindaco stanno per finire. E le elezioni sono giusto dietro l'angolo. Sta cercando di essere rieletto e ha assunto a me Angelo come suo, diciamo, manager per la campagna elettorale. Il sindaco ha domandato al cancellatore cioè l'Eraser ha domandato allo di aiuto deve essere disperato. Il cancellatore di Eraser? Oh. Questi sono solo insomma delle dicerie. Sono una un attivista sociale molto serio. Ma torniamo al punto. Mettiamo le carte sul tavolo. Il sindaco sicuramente ha un parente che possiede parte di quell'impianto. Ma il sindaco non sapeva di questa cosa. e non c'è nessun accordo di potere in cambio di denaro in questa cosa. Ma la vostra intervista può causare a dei cittadini insomma meno sofisticati può causare dei frantendimenti con loro. quindi immagino che vorrete riconsiderare di continuare insomma questo report ulteriormente in modo da non avere altri fraintendimenti insomma lo sta minacciando di non andare avanti con la sua indagine giornalistica. Sto solo facendo il mio lavoro o troverò la verità? Ma sto solo facendo il mio lavoro? Che grande giornalista! Ammiro la vostra passione per il vostro lavoro ma c'è di più del lavoro nella vita molto di più che cosa state cercando di dire? Un uccellino mi ha detto che siete ancora in affitto in praticamente un appartamento pulcioso e che avete rotto con la vostra fidanzata non molto tempo fa e non avete amici oltre al vostro avvocato col quale andavate a scuola assieme i vostri articoli report dei vostri filmati sempre aggressivi vi hanno messo spesso nei guai ed è quello insomma questo avvocato è quello che vi aiuta a ripulire i vostri disastri avete sicuramente fatto le vostre ricerche su di me siete un bravo giornalista anche voi mi state adulando stavo solo cercando di farvi capire che entrambi ci troviamo in situazioni che sono non esattamente ideali ci possiamo aiutare knuckle che deve essere il mastino di fianco portami la valigetta è un gorilla è un gorilla che cos'è ah ci sono dei soldi dentro quello cosa sarebbe state cercando di comprarmi no avete capito male volevo solo che voi faceste parte della nostra campagna dello staff come capo della pubblicità questa è la vostra paga sì sì uno col vostro talento lavorare come reporter della tv che che spreco voglio darvi un'opportunità quindi vi unirete a noi e o continuerete andare avanti con il vostro report insomma ingrato siete una volpe furba sono certo che farete la scelta giusta declina o prendi il denaro non c'è nessuna vergogna no declina dai declina mettete il vostro denaro via non sono in vendita oh che sfortuna visto che siete così determinato ad essere cocciuto non mi lasciate altra scelta il cancellatore sta per mostrarmi i sui veri colori cioè di che pasta è fatto non potete comprarmi quindi dovete minacciarmi stati cercando l'opportunità per cancellare anche me in nessun modo voi siete quello che ha insomma che ha portato la luce e la storia della contaminazione se voi spariste sarebbe un grosso problema per me dopo tutto il pubblico ama speculare sono felice di sentire questo se non c'è nient'altro me ne andrei che facile e le prometto che vedrete il seguito insomma di quella notizia molto presto state bene buona giornata è un ratto lui questo angelo vi pentirete della vostra follia è carina la grafica i personaggi sono carini ma è carina proprio la grafica beh sono il sergente norman questa è la vostra macchina che macchinetta piccino si c'è qualche problema ufficiale officer abbiamo ricevuto una soffiata che questa macchina contiene una sostanza illegale siamo venuti a controllare ma bastardi Kyle cerca davanti Eric muove il sedere e guarda nel bagagliaio il signore deve esserci un errore questo saremo noi a determinarlo state fatemi da parte Eric cosa ha trovato Eric l'ho trovato stava nascondendo qualcosa e sembra una cosa di grado A quindi qualcosa di molto grave aspettate non so niente riguardo a quello questa insomma è stato è una trappola me l'ha messa in macchina quel tipo nel caffè deve avere e no non so niente di quello chiudete la bocca vi interrogheremo alla stazione no guarda angelo che grande giornata ci vuole un altro drink quindi probabilmente anche se avessi preso i soldi mi avrebbero messo dentro lo stesso ah un reporter di grande fama è stato dichiarato colpevole e è andato in prigione oggi Tomax De Fox il prominente reporter per la Woodpecker TV è stato sentenziato a tre anni in prigione e una multa di 50.000 dollari per il possesso di una sostanza illegale servirà insomma la sua pena alla prisione di Boulderton le fonti dicono che è anche sospettato di insomma di fare delle false interviste e fabbricare false notizie fra le altre violazioni che ha fatto nelle parole di un residente cittadino sono molto arrabbiato con lui non credo a nessuno dei suoi report neanche quelli vecchi e sulla stessa pagina diranno c'è una notizia sulla contaminazione del fiume che diranno che è sanissimo l'investigazione sulla contaminazione del fiume Lameleg ha finalmente portato la verità alla luce ok l'investigazione fatta da parte dell'agenzia di protezione ambientale del comune ha rilasciato la seguente dichiarazione l'incidente è causato da un temporaneo lavoratore che aveva bevuto durante il lavoro ha accidentalmente versato dei prodotti chimici nello scarico che sono risultati in una contaminazione minore ti si gioia la sangue a leggere queste cose però perché quante volte le leggiamo noi sui giornalisti queste cose qua il lavoratore temporale a tempo è stato licenziato il team di investigazione ha dato anche nuovi fondi all'impianto chimico per assistere nell'attività di pulizia in modo da far tornare un fiume bello pulito per il pubblico si si credeteci e qua ci sono ovviamente le news per le elezioni eh bei corrotti ok ah probabilmente lo scopo del gioco visto che mancavano 21 giorni alla rielezione del sindaco non riuscire a scappare e non far rieleggere sto sindaco corrotto penso bruce stai sull'attenti ascolta bene fish pece d'orino avanti sei il carcerato 12 20 ok io sono il capitano bruce e le mie parole qua dentro sono legge e ubbiterai hai capito ho capito oppure si cosa parla bene non ti riesco a sentire ho capito bene ora porto il tuo sedere nella cella numero 3 ok clicca sul terreno per muoverti ma guarda che carini tutti questi carcerati il panda qua la giraffa questo che cos'è eccola qua pesce perché non mi fisce sarà un modo per chiamare i carcerati nelle prigioni non lo so la tua nuova casa prima che tu entri un'ultima cosa la l'appello è alle 8 è meglio che tu non sia in ritardo ora vai via dalla mia vista ma che carina la grafica di questo gioco quel tipo parla un sacco ma perché prima aveva le orecchiette belle su tutte e due e adesso ce n'è una smangiata chi è che gli ha smangiato l'orecchia poverino ma adesso non è tempo di perdere energie insomma arrabbiandomi con lui è passata una settimana da quando sono stato insomma catturato e ho non ancora visto il mio avvocato non so come l'appello sta progredendo devo contattarlo al più presto e sta pensando e c'è un asino come compagno di cella devo chiedere al prigioniero dovrebbe ai prigionieri dovrebbero sapere come si fa a contattare le persone di fuori della cella ok aspetto un secondo lunedì la cella 103 sono le 7 del mattino alle 7 45 c'è l'appello ho 50 soldini queste sono le abilità ok che carino allora sei stato incastrato per aver fatto questo report sull'impianto chimico che coinvolgeva anche il sindaco e ora si trova incarcerato nella prigione di massima sicurezza di boulderton anche se il verdetto è stato raggiunto il tuo avvocato e amico Reed il panda rosso sta ancora cercando di fare appello hai bisogno di contattarlo il più presto possibile per discutere i prossimi passi non puoi accettare insomma questa ingiustizia ok quindi devo chiedere al mio compagno di cella come contattare l'esterno cosa ottengo 50 sembra un cervello ah si guarda la salute e la salita mentale probabilmente allora character sono io ma che carino come hai fatto come lino ha fatto un giorno in cella senza gang occupazione condotta buona condotta crediti di buona condotta reputazione quanti soldi ha quali sono le sue caratteristiche status cosa una barretta di caramello dei biscotti delle gomme da masticare un pezzo di un altro pezzo di carta non ci sono anche le qualità basic interme questo verde basic questo intermedio questo sembra che possa essere usato per fare i regali forse per aumentare la relazione con gli altri la moneta la carta queste sono le skill bene queste sono le quest queste sono le gang la gang dei big foot dei piedi grossi questa è quella dei denti affilati e questa è quella degli artigli neri vediamo che differenza c'è allora con questo parto già con 15 punti con queste meno 15 con queste meno 5 perché ah probabilmente ho capito queste per quelli forti queste per quelli sneaky sneaky e questo sharp tooth perché io ho scelto di essere quel tipo di giornalista probabilmente sono già partito più avvantaggiato con questi è un gruppo di ladri che controlla la corte del basket e la stanza della tv ok e le relazioni elefante giraffa frank ma che carino guarda quanti sono va bellini allora parliamo con l'asino qua ciao sono thomas il tuo nuovo compagno di cella oh ciao stavo leggendo una lettera della mia fidanzata io sono seme il mio soprannome è ratchet ero ero un meccanico la fuori sono un giornalista lavoro in tv sono un giornalista ah ho capito perché sembravi familiare devo averti visto in qualche show ok è felice domanda come contattare l'esterno sam c'è un modo per contattare l'esterno devo parlare col mio avvocato certo questa è una prigione moderna puoi scrivere una lettera come me o se sei di fretta c'è un telefono a pagamento nella lobby puoi provarci dopo che c'è stato diciamo la conta l'appello ma c'è solitamente la coda un telefono è una bella novità chiamerò dopo l'appello sembra che questa insomma questo ammasso di ferraglia sia il mio letto quello in basso è stato preso penso che io dormirò sopra bed tutorial tip check il letto è dove dormi ma ha ovviamente anche altre funzioni dormire puoi andare a dormire alle 21 ogni sera nel lato di dormire ristorare la tua stamina devi alzarti alle 7 dormire di più non è permesso in prigione puoi migliorare la qualità della tua dormita rifacendo il tuo letto la prigione è molto fredda la notte e morirai di freddo senza una coperta ok ma il letto è fatto sì non posso andare sì certo non posso andare a dormire adesso questo cos'è un armadietto sembra che posso avere un po' di spazio anch'io sembra che ci sia un pezzo di carta sopra la scheda della prigione questo è proprio quello di cui ho bisogno cap board ok puoi metterci le cose dentro contrabbande le regole della prigione sono molto strette ok i compartimenti normali possono tenere solo oggetti con una violazione di 2 o meno altrimenti verranno scoperte lo scompartimento nascosto ok ci sono dei posti dove puoi nascondere le cose insomma organize item ma guarda ce ne sono due ok tipo se io prendo questo infatti non ho niente di illegale ok a parte questi due scompartimenti poi magari si potranno aprire di più ma bellino ok gabinetto e lavandino assieme spero che la coloresca dal lavandino quando la toilette è intasata usare la toilette che cosa succede al cibo dopo che l'hai mangiato viene digerito ovviamente quello che digerisci si accumula nel tuo intestino quando raggiunge 2 lo puoi svuotare ma qual è l'intestino oh santo cielo andando alla toilette quando raggiunge 20 io non so se è vero questa cosa se non lo vado a ridere quando raggiunge 20 anche la insomma il peto più leggero può essere molto pericoloso ah ma sì ma no è vero c'è la digestione non è una roba fatta per ridere sazietà 20 digestione digestione 75 su 10 e digestione 0 su 20 ok quando la digestione raggiunge 2 puoi usare la toilette dai quando la digestione arriva a 20 c'è la possibilità che tu non riesca più a trattenere va bene poverina questa tavola sembra più vecchia di me potrei utilizzarlo come un tavolo da lavoro craft write plant live allora crea scrivi ma non ho la penna e la pencil pianta ah queste piante sembrano fatte di plastica voglio crescere una pianta ah ma devo aspettare la versione definitiva del gioco ma che carino craft cloth cloth che può essere utilizzato per insomma per curarsi le ferite questo la corda può essere usata per calarsi lockpick può essere usato per aprire le aperture però vedono di questi ah un bad shit una un lenzuolo ah questo è per farne di più o di meno che ho capito qua cosa c'è? qua c'è la cosa da mangiare mint roll up sembra una sigaretta fatta di menta e questo ah l'uccellino di carta ho capito lui ne aveva uno nella tasca ok ho bisogno della penna per scrivere lì carino certo che stavo pensando che sto trovando un po' troppi giochi adesso in queste demo che sto provando da quello del gattino a quello dell'alchimista dell'altro giorno questo qua troppi giochi che mi piacciono veramente ma non che mi piacciono nel senso di dire carino ve lo consiglio se è il vostro genere provatelo che mi piacciono come li vorrei comprare io per cui se va avanti così andrò in bancarotto ho capito ok devo andare alla conta insomma all'appello ma guarda che bellini che sono allora sembra che io sia arrivato in tempo vabbè certo attenzione attenzione quale sono di questi ah questo qua brusso perché hanno le tutine di colore diverso eh non lo so forse quelli rossi sono quelli blu saranno quelli buoni quelli arancioni quelli neutri cioè che a livello di come segui le regole della prigione non lo so e quelli rossi quelli cattivi non lo so non me ne intendo di divise da prigione eh state calmi insomma deficienti è il momento dell'appello uno due tre sono 44 di 47 eh tre prigionieri sono assenti uno è eh all'infermeria e uno è insomma in segregazione nelle celle dove si tengono solo questo è tutto ascoltate oggi è il primo giorno del mese eh cosa significa che qualcuno ha qualcuno nuovo è arrivato eh mi raccomando di non cercare di farvi notare cercate di fare furbi nel mio regno o non vi mostrerò nessuna pietà ora torniamo al lavoro ora voi tutti nuovi arrivati ascoltate e ascoltate bene l'annuncio di oggi allora per fare per fare che voi vermi pigri vermi vi guadagnate insomma la vostra persistenza qua dentro la prigione vi offre dei lavoretti ci sono ancora dei posti liberi in lavanderia e se qualcuno di voi vuole guadagnare un po' di soldi insomma dovrete venire da me e dirmelo ricordate di non fare troppo schizzinose riguardo al lavoro perché se non volete farlo voi lo farà qualcun altro non sono interessato voglio andare in cucina non sarò il tuo schiavo voglio una paga più alta state zitti non ho tempo di ascoltare le vostre lamentele dismiss beh io voglio andare a lavare a lavorare ma guarda che carino lavoro in prigione ho bisogno di un po' di soldi ho solo poche monetine nelle mie tasche ma la priorità principale adesso è di chiamare Reed probabilmente aspetta di sentirmi sorveglianza ci sono delle guardie che ti stanno guardando insomma fai il furbo e non causare problemi allora quello è il telefono queste sono le guardie questo dovrei parlare con lui se voglio lavorare in lavanderia Diego sembra un po' qua c'è il caffè ma aspetta questo non mi compare distanza Sam questo coalino Kevin sta parlando con se stesso questo non va bene befriend fai amicizia amicizia hi ciao allora lasciami in pace ripagherò i soldi che devo sono in prigione non è che me ne andrò via eh deve esserci un fraintendimento aspetta non sei qui per avere i soldi che ti dovevo alla faccina con la gocciolina mi ha spaventato pensavo che insomma di prendere un'altra ammazzata sembra che tu debba un sacco di soldi ma la maggior parte alla alla gang dell'artiglio nero ma ne ho presi anche un po' da Bill per coprire gli interessi chi è Bill? e quindi due giorni fa ne ho presi altri da Sam allora quindi una un'uscita del playpup playpup cosa tipo playboy è uscita e non volevo comprarla all'inizio ma la copertina era troppo mi tentava troppo quindi ho comprato una copia da Tony a a credito ma ha detto che avrei avuto uno sconto se comprava anche della birra così ho capito sai sei uno che insomma fa un sacco di debiti giusto? no 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 però ho un problema insomma di liquidità al momento potrei darmi un po' di soldi per aiutarmi in questo momento difficile quando sarò di nuovo a posto ti ripagherò al doppio che cosa ne pensi? mi prendi per un pazzo? ah sei diventato amico di Kevin in koala ok un piccolo koala la prima volta che l'hai conosciuto allora ti ha scambiato per uno che andava lì a collezionare dei soldi si è scoperto poi insomma che che ha un sacco di debiti e cerca sempre del denaro ma non paga mai i suoi debiti quando ha capito che eri ha cercato di prendere del denaro anche da te ovviamente il suo tentativo ti ha fatto infuriare ok allora facciamo che devo telefonare eh Rudolf sapete chi è Rudolf la renna è la renna di papà natale allora è passato così tanto tempo hai mostrato lo scritto al direttore o no cosa come cosa vuol dire che non hai avuto la possibilità se il suo assistente hai idea di quanto sia importante questo cioè sembra un manoscritto un qualcosa come sia importante per me il mio ritorno è scritto su di esso seriamente ce la puoi fare non ti dimenticare chi è che ti ha aiutato quando eri insomma nella peggiore delle situazioni ho capito ma io devo telefonare è al telefono persuadilo a lasciare il posto pagalo per andare via persuadilo 58% di probabilità proviamo sono un po' in ritardo potresti farmi usare questo telefono oh non ho capito come ma pare di aver avuto successo ok tanto avevo già finito posso telefonare facciamo una telefonata enter 1220 cancelletto si connette ok prigioniero 1220 puoi fare ancora due nuove chiamate oggi ci verranno addebitati 10 dollari per chiamata 90 dollari di servizio saranno addebitati alla tua prima chiamata ma io non ce li ho lo sapevo che non sarebbe stato così semplice questo posto è più l'osco di come pensavo e inserisci 100 non ce li ho prova infatti non ho abbastanza soldi lascia perdere ho bisogno di trovare questi 100 dollari prima possibile allora devi andare a lavorare giusto e per andare a lavorare devi parlare con lui aveva detto di parlare con lui giusto che cosa c'è chiedi circa il lavoro cosa vuoi lavorare bene i carcerati dovrebbero mantenersi occupati e al momento puoi insomma far richiesta per lavorare alla lavanderia senza dover avere insomma un buon credito di buona condotta è un privilegio speciale per i novellini come te se sei interessato vieni qua e insomma compili il modulo application posso comprare con queste cose di buona condotta aumentare il numero di telefonate che posso fare a te 3 e garantirmi 4 ore di utilizzare il computer nel general building vabbè proviamo a lavorare nella lavanderia ah no e quanto costa costa zero un buon condotto ok la tua domanda è approvata d'ora in avanti potrai lavorare nella lavanderia è un grande lavoro lo amerai e quindi come ci arrivo la vedi questa grata vai lì prima di pranzo e una guardia ti porterà al tuo posto di lavoro dall'altra parte del corridoio ma non provare a fare il furbo che ci sono insomma dei cecchini non vuoi che ti venga fatta saltare la testa vero? no bene allora prima del lancio quindi posso andare vai al lavoro vuoi lavorare? sì sì la mia richiesta di lavoro è stata approvata beh vedo che hai un permesso di lavoro ma non posso trovare un certificato di sanità di 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 della tua salute cosa? ah devi andare all'infermeria per chissà se queste cose sono vere cioè ma non voglio non voglio saperlo non voglio provare devi insomma devi andare all'infermeria a farti fare un certificato di sana e robusta costituzione prima di passare di qua hai capito? sì ho capito devo andare in infermeria vai all'infermeria ok vuoi andare adesso? vai la guardia ti porterà comportati bene se qui per il test del tuo fisico il dottore è nella stanza di consultazione puoi entrare per conto tuo vieni da me nel corridoio quando hai fatto non star lì troppo a lungo ok non causerò nessun problema tutorial tip certo congratulazioni per essere arrivata all'infermeria sembrerà strano ma l'infermeria è il miglior posto in tutta la prigione c'è un bravo dottore letti soffici e una grossa quantità di tesori nella farmacia qualsiasi sia il motivo per cui tu vai in infermeria puoi vedere il dottore solo una volta quindi non perdere l'opportunità quindi posso Fernando allora qua c'è il dottore ma io quindi posso rubare qualcosa? cosa dice? allora ok i carcerati non possono rimuovere niente dall'infermeria che porta spessa che cosa può esserci dentro? guarda attraverso la fissura ci sono file di scaffali sembra che contenga medicine questa deve essere la farmacia non mi stupisco che sia tipo Fort Knox prova ad aprire la porta è chiusa è un insomma è una strattura antiladro non sarà facile da aprire ok quindi dovrò farmi tipo un lockpick un qualcosa per scastinare questa farmacia è insomma un tesoro Tim cosa gli è successo? questo è Tim questo è Walter e questo è Fernando parliamo con Fernando mi hai chiamato? ah fai amicizia con Fernando ah sei nuovo qui vero? è vero oppure un solo giorno in questo posto è l'inferno ma no da ne incominciare a lamentarti è vero io sono Fernando e sono sono Fernando ah è un formichiere il mangiatore di formiche e sono stato qua per cinque anni visto che so qualcosina lascia che ti dia un suggerimento il pericolo è dietro ogni l'angolo in questo posto specialmente per i nuovi arrivati è meglio avere qualche medicina grazie grazie per avermi fatto sapere o sei una persona gentile sei una persona gentile ero ero un un chirurgo prima aiutare le persone in quello che faccio ma come mai sei finito in prigione sono curioso adesso quindi lavoro nell'infermeria posso avere tutte le buone cose come l'alcol e gli antidolorifici vini da me e se hai bisogno di qualsiasi cosa possiamo discuterne il prezzo mi sembrava troppo bello per essere vero sei visitato amico di Fernando il mangiatore di formiche un mangiatore di formiche con degli artigli molto affilati lavorava come chirurgo prima di essere imprigionato per la sua esperienza medica gli è stato dato il permesso speciale di lavorare nell'infermeria ok e ci dice che se abbiamo bisogno di medicina o di qualcos'altro possiamo andare da lui intanto vediamo qua la digestione è a due quindi potrei usare il il gabinetto che bella cosa lava le tue mani con il sapone ok ah gli ha aumentato la salute le mie mani sono pulite perfetto ho capito ho capito qua dentro cosa c'è cerca ma mi mettono mi sto dicendo ma mi mettono in galera se rubo una di queste cose insomma robbing alcol tape violazione 1 violazione 5 allora questo serve per le bende servono per quando si sta combattendo prendo le bende ah ma posso prendere tutto tape va bene è andata bene quindi adesso nell'inventario no 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 non voglio berlo berlo e cos'altro avevo rubato tape violazione 1 ok quindi le devo mettere nella nella mia cella in in quello scaffale con le cose segrete leggi il cartello guardati attorno un intercom salve come posso aiutarla sono qui per l'attestato insomma di sana e robusta costituzione si vieni un po' di tempo libero ok ciao io sono bet vedo che questa è la tua prima volta nell'infermeria sono il dottore qui sono i responsabili per tutti i carcerati per tutte le loro malattie se grandi che piccole ogni giorno me ne vado alle 17 e 30 non mi piace fare gli straordinari ho capito neanche io vorrei lavorare in una prigione ok se se vieni ferito durante la notte la guardia branna ti ti aiuterà non un dottore ma un po' di training come medico quindi non ti preoccupare e guardiamo i tuoi risultati allora prima di tutto con gratulazioni non c'è niente di sbagliato con c'è niente che non va ma considerando le condizioni poco sane in questo posto non si è mai abbastanza cauti ti farò un vaccino per aiutarti a proteggerti contro le infezioni aspetta qui li prenderò dalla farmacia che cosa dovrei fare adesso rimane seduto aspetta ok sei pronto per la puntura taglia un regalo vuoi darmi qualcosa le scarpe e no volevo darle questo sì questo è il regalo più speciale che ho mai ricevuto qualcosa da dire dichiara i tuoi sentimenti per lei non ci posso credere vabbè parlaci un po' va sicuramente comodo avere il dottore che ho amico sicuramente si ti aiuta ad irassarsi lo sai che le regole della prigione mi dicono che non posso parlare con i carcerati solo perché sono l'unica in questa stanza hai mai provato a non parlare per un intero giorno ah no è lei che dice che non potrebbe parlargli ma gli parla lo stesso perché insomma è stupido di stargli da sola qualche volta mi domando chi siano veramente i prigionieri quindi perché fai il dottore della prigione sono una stupida ragazza che cerca di fare infuriare il suo perfino più stupido padre ha problemi di famiglia lasciamo perdere lasciamo sorvoliamo per il momento ok ecco qua deve farsi la puntura può fare un po' male ok puoi lasciare la stanza adesso hai il certificato molto bene andiamo a lavorare voglio provare a lavorare voglio andare a lavorare alla lavanderia e questa è la lavanderia la macchina per lavare è così forte vediamo che lavanderia che lavanderia posso fare tipo qua cerca non ho trovato nulla con chi acqua un asse da stiro sembra che questo sia un lavoro da fare qua che cosa deve fare esattamente deve stirare ci sono delle istruzioni sulla parete guarderò guarderò dove 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 questa macchina è più alta di me ma è piccola comparata con il resto ci sono delle delle ruote sul fondo dovrei muoverla muovila successo continuo perché mi sa che le istruzioni sono queste qua dietro ok ah non è stato facile ok le istruzioni per stirare i lavoratori devono essere abili nell'utilizzo del faro da stiro prendi il faro da stiro per iniziare a lavorare e mettilo giù i tempi di per stirare per i 5 tipi di tessuti top 11 minuti pantaloni 10 minuti vestiti 9 minuti mutande 8 minuti calzini 7 minuti va bene più vicino è il tempo insomma più esatto è il tempo più soldi riceverai start ironing ora per iniziare il lavoro aspetta non capisco allora i calzini 7 minuti 7 minuti 7 minuti ok ah ma me lo cancella questo 8 minuti start ok 9 minuti 9 minuti accidenti sono andato bene ah gli ho fatto 2 e 3 mi domando quanto sarò pagato non lo so allora i calzini li ho proprio sbagliati 10 e 10 ok dai non è male lo puoi rifare prima prendi le cose dal carrello ok 9 minuti inizia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wow 7 minuti 1 2 3 4 5 6 7 sono stata bravissima 7 minuti 1 2 3 4 5 6 7 sono stata bravissima cavoli guarda 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 10 20 20 fantastico posso pagare la telefonata ok live perché sono arrivata a 120 è abbastanza per oggi ho fatto un po' di soldi vediamo qua cosa fanno c'è anche il pranzo alle cosa c'è questo questo queste scatole sono riempite di giare softener ammorbidente e addolcitore per l'acqua la stanza di mixaggio dei detergenti i prodotti chimici sono così forti mi sembra di soffocare qua dentro stare qua dentro troppo a lungo non potrebbe non essere buono per la mia salute e allora e questo chris sono felice di vederti persuadilo a lasciare questo posto no 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 vabbè cancella non devo usarlo io che roba lì io voglio andare a telefonare ma ci sono tante troppe cose dannazione ne ho bruciato un altro voglio andare a telefonare ritorno all'edificio principale ci sono troppe cose da fare e poco tempo ci sarà mica qualcun altro ok finalmente posso telefonare ok i miei soldi duramente guadagnati oh sembra che funzioni fortunatamente insomma ricordo memoria il numero dell'ufficio e c'è anche un altro numero che non posso dimenticare Maggie che deve essere quella con cui ha detto che si era lasciato chi dovrei chiamare ma no devi chiamare il tuo avvocato cavoli che è Maggie 64 580 rispondi eh eccolo qua il red panda ok questo è Ridlow il tuo insomma il vostro avvocato specializzato sono io Thomas o finalmente avevo paura che qualcosa di brutto ti fosse successo non è così facile chiamare da qui quindi come stanno andando le cose nel caso o stavo giusto per dirtelo l'appello è non è andato buon fine non so se Angelo ha fatto qualcosa o se ci sono state pressioni da parte del sindaco ma insomma l'appello è stato negato o no devo aspettare un mese prima di farlo un'altra volta ma come sai l'elezione del sindaco è fra 21 giorni anche la corte ha accettato questa cosa non c'è speranza me lo aspettavo oppure da nazione quei figli di buona donna me lo aspettavo ma non perderti non perdere speranza o anche vedere buone notizie buone notizie ti ricordi la telefonata anonima che hai ricevuto la notte prima di venire arrestato me lo ricordo era una donna diceva che aveva delle informazioni insomma dei dati certi che il sindaco prendesse delle mazzette ricevo quelle telefonate del genere ogni giorno da dei farabutti insomma che vendono false informazioni lo so però insomma questa potrebbe essere reale ti ricordi dove voleva incontrarsi un piccolo bar chiamato Baroness fa suonare una campanella le mie investigazioni hanno scoperto che questo bar ha qualcosa a che fare con il sindaco ma non posso spiegartelo chiaramente adesso al telefono ci dobbiamo incontrare in prigione solo che devi aspettare qualche giorno la prigione dice che ci sono così tante richieste di visita che tutti gli slot sono pieni e anche gli avvocati devono stare in lista d'attesa quando piove piove tantissimo cioè ti di male in peggio praticamente lo so che sei ansioso puoi chiedere a qualche guardia magari se c'è un modo per bypassare la lista d'attesa potrei provare cos'altro posso fare ok allora continuerò a cercare degli indizi stai attento là dentro oh ehi devi andare a mangiare si questo posto non sembra così male spero che il gusto non faccia schifo quindi posso stare un oretto vabbè direi che possiamo finire qua però i maialozzi che mi danno le cose no ma che carino mi faccio mangiare qualcosa poi possiamo chiudere qua la demo che però è molto carina vediamo cosa c'è ordina del cibo ehi cosa vuoi mangiare che cosa c'è allora ah però me lo devo pure pagare oh non ho provato il gabinetto e lui c'è la ferita per due giorni e questo è la torta di mele vabbè compriamo questo dai ma che carino quel suo cosino dove ti metti mettiti qua vicino ad Alex tutorial tip puoi dare metà del tuo del tuo cibo a chi è insieme a te al tavolo e questo aumenterà il tuo rapporto con lui se non è abbastanza cibo puoi cercare di chiederlo a qualcuno ok mangia ok sembra che non ci sia zucchero qua dentro ok dai sei migliorato interessante perché sembrano un po' quei giochini soliti alla fine sembrano quei giochini soliti dove devi fare amicizia quindi niente io vi ringrazio molto per avermi seguita e ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti